Nel giorno di San Valentino il medico ed esploratore James Bruce giunge a Gondar negli ultimi drammatici giorni di un impero in agonia e alla ricerca delle sorgenti del Nilo Azzurro e di un antico testo perduto mentre un'anziana imperatrice cerca con ogni mezzo di conservare il suo potere e di preservare un inquietante segreto e una giovane donna tenta di sfuggire alla ineluttabilità della sua sorte. Un sottile filo lega le loro vicende quasi due secoli e mezzo più tardi al destino di Marian, giovane ricercatrice dell'università di Addis Abeba. Il ritrovamento di un insolito medaglione sarà per lei l'inizio di un viaggio attraverso i conflitti dell'anima umano, tra lotte di potere e tormenti della coscienza destinati a mutare per sempre la realtà sua e degli altri protagonisti. di un'anima umano, tra lotte di potere e di un'anima umano, tra lotte di potere e di un'anima umano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!